ciao ragazzi un altro anno se n'è andato il 2020 è finito per fortuna perché non se ne poteva più però dato che sono una persona positiva cerco di guardare sempre il lato positivo delle cose il 2020 mi ha regalato delle belle emozioni in questo video andrò a fare un enorme blobbata delle cose più più belle stupide e demenziali fatte in questo anno colgo l'occasione per farvi i migliori auguri di nuovo anno e spero che il 2021 sia veramente il vostro anno della svolta o che vi porti tante tante belle cose tanto amore e tante soddisfazioni e con questo è tutto vi lascio al video e vi saluto ciao oggi vi voglio far vedere il trail che ho vicino a casa chi mi segue da un po sa che ama una mountain bike a tutto tondo quest'anno l'obiettivo è distruggere la mia autostima partecipando ad alcune gare la base di partenza su cui costruire tutto il piano d'allenamento e la conoscenza del vostro valore mhr un acronimo inglese che sta per maximum heart rate mi sto preparando per un'uscita piuttosto lunga per evitare escoriazioni ed arrossamenti devo provare questa crema la crema di camosho non so quanto il camosho abbia a che fare con questa crema però si chiama così e questa crema si deve mettere questa crema ottimizzando quindi il grip su tracciati tecnici il tracciati purtroppo non ho a disposizione un cerchio che non è già tu bless vabbè va per facilitare la comprensione del video vado a levare quel lavoro che già non è stato fatto mi piange il cuore prima di inserire il liquido la boccetta va agitata anche il bombone non ha funzionato vi lascio solo immaginare le saracche che mi sono passate per la testa cercate di sentire se la valvola perde se sentite un psss potete iniziare a darvi le randellate perché l'operazione è tutta da rifare e anche pdf con tutti i passaggi relativi step by step da fare per arrivare a questo risultato ma lo che c'è qui e ehi ciao molto palco c'è molto sangue spopolamenti i carretti cibi nel sangue da tutte le parti se non c'è una nocciola prendono yogurt è un yogurt perché ha quel saporino un po acidulo che insieme al fior di latte fa quindi non è uno smartwatch per serate di gala ma nello specifico l'insti soddisfa tutti gli standard militari 810 g è resistente al calore agli urti e sott'acqua resiste fino a 10 atmosfere e potrete andare a fare la vostra sessione di jogging completamente tracciati dalla ditta gps bene dopo tre minuti di intenso allenamento siamo pronti per salvare la nostra traccia arrivo al portaconte ma perché fa questo rumore oggi gran fondo devo morire la discesa porca merda ah tadaaa Sous-titrage ST' 501 Vedo la scima Ma che bello Vedo la scima Vedo la scima A questa telecamera non sfugge nulla Se cercate di nascondervi è praticamente impossibile C'è tanta gna gna oggi Vedo la scima Boom Boom La spazio è enorme Ore 7 Meno 5 La mia mattinata inizia così Chi mi segue su Strava può aver notato che le mie prestazioni matutine vanno leggermente migliorando giorno dopo giorno Così come il numero dei watt di potenza che salgono 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 Ma che c***o dici Stefano ma sei una pipa Però per l'inserimento non si riuscirà a metterlo con il gommino Quindi lo si inserisce e poi bisogna cercare di inserire questo cacchio di gommino che è durissimo Però con un po' di pazienza A meno che si inserisce col gommino Cioè si tiene il gommino Ma risulterebbe molto duro Sì Andiamo Pierre Ready Pierre Sei pronto Pierre Ready Pierre Sì Tutto pronto Pierre Sei pronto Pierre Ti manca ancora tanto Pierre No sono pronto Ta taaa Spettacolo Passo Bernina 2330 Siamo Cotti Sembra ad ora fatto Board Non sono neanche più governmentiamo Guardate che meraviglia Cavalli liberi allo stato brado siamo in mezzo al nulla sia davanti che dietro c'è un muro davanti a noi che hai visto che muro che c'è davanti a noi cos'è quel muro lì pier ma via ferrata che siamo arrivati da quella valle del nulla e adesso andiamo bello mi piace questo treno prima di essere in toscana in puglia ma quante sono mamma mia quanta merda che c'è pier ma quanta merda c'è dove siamo qua siamo alla capanna a che altezza 1347 metri speriamo nella discesa che sia abbastanza facile un po divertente ecco dopo la polenta come l'ho preso polenta spezzatino il polenta spezzatino resta un po più leggero andiamo giù a piombo poi arrivata la polenta con lo spezzatino lui si è preso il piatto di cinesi è pronto pier sono le nove e mezzo dovevo partire presto ma pier ha avuto dei problemi siamo a 2300 metri poi ci sarà la discesa almeno il casco portatevelo paludi è luna il tempo sembra stia reggendo indovinate chi è l'umano dura da dove arriviamo noi ho preso la scossa occhio pier gna 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 pier la gna gna c'è la gna gna pier c'è la gna gna lì davanti dai lasciamo l'alpe trela e dobbiamo dirigerci l'anel nero pensavo di sudare non ho messo la giacca invece sta arrivando l'impossibile ai due la pioggia e vento fa un po freddino dai pier c'è andata pier che freddo maru che freddo finita la discesa sono caduto e mi sono fatto anche male c'è un leggero gonfiore qui e vabbè cose che capitano c'è un freddo bestia ma ho bisogno di calorie abbiamo le braghe che si calano un po di zuccheri dobbiamo mangiare 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 belli puliti e adesso ci butteremo giù dalla pista nera di coppa del mondo di renzi ride come potete vedere questo è il ponticciolo poi faremo la gica alla giù c'è un muro e andremo a saltare dove c'è quel ponte per poi girare a sinistra e fare il drop di 8 metri sul traguardo finale tutto questo è nella mia fantasia chiaramente non faremo una beata cippa di tutto quello che ho detto ma faremo questa qua e come al solito la giornatina è finita come piace a noi oh ci sei pier dai che siamo alle giostre qua eh oh zio l'ho fatto vai 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 e come sempre abbiamo dato sfogo alla nostra barbara in gordigia andando a mangiare ad una susceria all you can eat zona varese di ottimo livello entrate le 18 e 30 alle 21 eravamo ancora a tavola portando sull'oro del fallimento il ristorante i gestori sono ancora lì che se la menano 4 metri boom boom va alla muerte siamo pronti per la lisi Che figata, che figata, che figata, sembra di volare, sembra di volare Che bella Fantastica, fantastica, sembra di volare E' tutta mattina che me lo chiedevo, vado o non vado, vado o non vado Non mi resta che augurarvi buona visione e buon divertimento Sembra la notte prima degli esami, domenica sera, domani si parte C'è tensione, c'è molta tensione Pierre? Dove sei Pierre? Andiamo Pierre? Sei pronto Pierre? Fa meglio occhi della tigre I segnalatori GPS per la misurazione del tempo E dalla fine abbiamo fatto la foto di Rito E mentre tutti erano fuori a fare il prediscaldamento pre-gare ad avere i professionisti Ho fatto una fatica a buttare giù dal letto l'amico Pierre Che se la stava dormendo bellamente Fregandosene di tutte le regole pre-gare Stiamo dirigendo ai box a prendere la bicicletta Pierre si parte Allora Pierre, i primi 20 chilometri 20? 20, sono 8 e metri Quindi mi sa che stiamo raggiungendo il gruppo davanti a noi Pendenze incredibili Arrivati alla stazione Sì, è proprio epica Ti guado Ormai non c'è stato salito qua Pierre Giuseppe, Stefano, congratulations to the two of you Lo stage 2 è stato per noi Quello dove abbiamo probabilmente espresso il meglio di noi Che trail ragazzi, che trail Magnifico, la valle del Reno Sotto di me è serreno a sinistra Se volo faccio il bagno 2000 metri E ora ci andiamo Verso la Rosa Ultimo chilometro della seconda tappa Ci siamo arrivati alla fine Sì Durissimo F***, sono provato Sento l'altitudine Non respiro Salta durissimo questa Piuttosto esposto hanno detto che era Non allungare eh Siamo arrivati al punto più alto della terza tappa E anche al punto più alto della Rosa Semica E' bello ma E' veramente tosto Questa è la nostra stanza Terzo fine Terza giornata Un disastro assoluto Come potete vedere Abbiamo cambiato fino ad ora due hotel Questo è il secondo Domani andremo a divorce E sarà il terzo hotel Le gambe vanno più o meno bene Ho un po' di acciacchi dovute ad un paio di cadute Oggi ho sofferto tanto L'altitudine Lo stambeco mi ha tirato Lo stambeco ha fatto un gran lavoro oggi Comani stambeco mi raccomando Comani regolari In salita Vuoi aggiungere qualcosa? E' durissima Le difficoltà maggiori? Avete mai provato a prendere Per cinque giorni di fila Barrette energetiche E gel E quando tornate in hotel Dovete condividere la stanza Con il compagno di squadra? Babavuma Non so se avete notato le finestre Ho aperto della camera da letto in un video Un incubo Ehi no Siamo a Rosa Che ha un problema Serio Ha questo tendine Ci vogliamo Questo mi sembra che si chiamano Non riesco a pederare bene Faccio la fatica poi Fantastico paesaggio Ricordo ancora 120 metri di dislinio Io sono scoppiato Cosa si vince alla Swiss Epic? No, questa la rifacciamo. Allora, alla Swiss Epic, per concludere la Swiss Epic, per la domanda su... No, rifacciamo. Per la domanda su cosa si vince... Allora, per la domanda su... No, per la domanda su cosa si vince alla Swiss Epic. Per la domanda su cosa si vince alla Swiss Epic. Cosa si vince alla Swiss Epic? Inoltre, chi... Inoltre, si possono... Siamo qui, ho chiesto al dottore, il dottore arriverà tra 5 minuti per sentire cosa dice. Il medico mi ha diagnosticato una periostite tibiale. Quinto e ultimo stage. Ce la faccio più. Ma poi, improvvisamente, è arrivato un temporale, violento, che mi ha fatto concentrare ad altro. Avevo freddo, dovevo pedalare per riscaldarmi. Il piede era come se fosse anestetizzato e questo mi ha aiutato ad arrivare in fondo. Poi, anche, non sa chi. Stai, dai, non sa chi. Ha, ha, ha... Oh, no, 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 no! Ehi, 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 ehi. Congratulations. Welcome to the road. Come on, Mark, you guys have walked SwissFail. Come on, man, I didn't think I would. Come on, Mark, you guys have walked SwissFail. Come on, Mark, you guys have walked SwissFail. Come on, Mark. Come on, Mark. Come on, Mark.